Prima salga chi deve andare a lavorare, per favore. Chi deve andare a lavorare che veramente deve scendere. E' arrivato il K525, oggi come notiamo, casualità ovviamente, presenti a controllare. Qua per chi non avesse il biglietto c'è la pigna di biglietti. Ricordiamo anche ai cittadini sul bus e a chi sta lavorando oggi che questa manifestazione è una dichiarazione in cui si fa vedere quella che è la vita normale per i concittadini. Preghiamo ai lavoratori di Guidoviedo e Servizio Controllo di relazionare anche alla loro azienda quello che stiamo facendo. E' per sicurezza. Pensi che tutte le domeniche accade sto problema? Bene. Giovanna! Ce l'hai di gente! Ce l'hai di gente! Sì, sì, sì. Fino a che ci stiamo saliamo. Sì, 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 sì. Vai, vai! Sì, sì, sì. 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 No, prego, prego. Nessun altro deve salire, eh? Prego, prego. Voi state qua, ci vediamo in piazza. Bene. Chi altri deve salire? Si parte, noi scendiamo a Pantigliate. Il Raduno Parchione è venuto a bisogno di auto e in piazza Paullo. Grazie ancora a tutti. Adesso raccontiamo questi pendolari della vicenda e ci vediamo dopo. Grazie ancora.